È polemica sul mancato pagamento degli artisti che si sono esibiti nell'estate scorsa durante la perdonanza celestiniana. A polemizzare con l'amministrazione comunale è il capogruppo di articolo 1 in consiglio comunale, Giustino Masciocco, che parla di bugie sull'effettivo costo della manifestazione su cui il comune non fa chiarezza, lasciando al comitato perdonanza, che nei giorni scorsi ha diffuso una nota, le responsabilità e la necessità di un intervento pubblico, dice Masciocco, giustificativo. A settembre, pochi giorni dopo la chiusura della 724esima edizione della perdonanza, il capogruppo di articolo 1 aveva denunciato come l'evento fosse costato 700.000 euro, ossia il doppio di quanto dichiarato inizialmente. E ora chiede un'operazione trasparenza sul pagamento degli artisti che dovranno aspettare, denuncia Masciocco, almeno fino alla presentazione della rendicontazione da parte del comune dell'Aquila per ottenere i trasferimenti ottenuti attraverso il programma Restart, quindi ancora molte settimane di attesa. È successo che il comitato ha mancanza di liquidità. Le fonti di finanziamento per lo svolgimento della manifestazione non erano soltanto quelle legate al contributo del comune o dei privati o della regione, ma c'erano anche i fondi Restart, quelli del 4% del terremoto per la cultura, che hanno necessità di una rendicontazione puntuale e precisa per quanto riguarda poi l'eventuale trasferimento. L'Aggiunta Comunale ha approvato il bilancio di previsione solo nel dicembre dello scorso anno, quindi a quattro mesi dalla manifestazione già avvenuta. Quando ci metterà per approvare il decisionale, cioè il definitivo, non lo sappiamo, quindi è tutto legato anche all'attività che l'Aggiunta vorrà fare nella certificazione delle spese sostenute dal comitato per donanza. Infatti avete sentito la voce del sindaco e dell'assessora Di Cosimo. Mentre rivendicavano e si sono appropriati del successo eventuale, per loro dire, della manifestazione nel mese di agosto, oggi se ne guardano bene di assumersi delle responsabilità. Per esempio l'Aggiunta avesse approvato non il preventivo, ma il definitivo, il mese di settembre, a ottobre, potevano esserci il trasferimento delle somme e quindi gli artisti venivano pagati. C'è una non curanza, cioè l'attività amministrativa oggi è tutta piegata alle elezioni regionali.